Ciao amici di youtube e di video ripetizioni, questo è giusto un piccolo video per farti vedere come aggiornare il tuo linux.13.10 all'ultimissima versione di linux.14.04 con l'update manager. Guarda è semplicissimo, basta che apri il tuo terminale e digiti questa istruzione sudo update-manager-d. Premi invio, lanci la tua password e vedrai una cosa del genere. Verranno scaricati gli aggiornamenti tramite il software update-manager e alla fine, sono svariati in mega, linux.13.10 ti richiederà di riavviare il tuo sistema operativo. A quel punto avrai linux.14.04 LTS, trastitana. Fammi sapere come ti trovi, fammi sapere come va. Naturalmente se hai degli aggiornamenti da fare su linux.13.10, prima farli, a quel punto lanciando nuovamente il comando sudo update-manager-d ti apparirà questa scritta. Adesso il mio sistema operativo è in inglese, ma è la stessa cosa anche se ce l'hai in italiano e ci dice che il software su questo computer è aggiornato, tuttavia 1.14.04 è disponibile. La nostra versione è la 13.10. Cliccando su upgrade farai il passaggio all'ultimissima versione LTS, long term support, quindi supporto a lungo termine, di linux.14.04. Un consiglio, se hai dei programmi oppure se hai dei dati a cui tieni in maniera particolare, fai un backup sempre per sicurezza. Anche se già l'ho fatto, il passaggio funziona alla perfezione, magari nel tuo caso potrebbe non funzionare alla perfezione, quindi per sicurezza fai un backup. Già che ci siamo ti invito ad iscriverti qua, alla destra, alla nostra newsletter. Ti prometto che non ti spammerò la tua casella email, ti manderò due, massimo tre email al mese, anche perché abbiamo pochissimo tempo. Qui scrivi il tuo nome, qui l'email che leggi di solito e clicca su iscriviti subito. Già che ci sei, iscriviti subito sul nostro canale YouTube dove abbiamo oggi 5.271 iscritti che ringrazio uno per uno, quasi 600.000 visualizzazioni, stiamo andando benissimo. Quando ti iscrivi, una volta che ti sei iscritto gratuitamente, fallo subito così non ci dovrai pensare più, sulla rotellina ti consiglio di cliccare la rotellina e spuntare questa voce, inviami gli aggiornamenti. Così ogni volta che carichiamo una videoripetizione, a volte di giorno in giorno, a volte una a settimana, due a settimana, te non te le verdi perché sarai avvisato in automatico. E già che ci sei fai mi piace sulla nostra pagina ufficiale Facebook dove 1747 amici già l'hanno fatto, anche sulla nostra pagina Google+. Ti ringrazio amico mio, ti metto tutti i riferimenti sulla descrizione della videoripetizione, ti auguro una fantastica giornata, ti mando un abbraccio, ciao amico mio, ciao YouTube!